ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video voglio parlarvi di questa fantastica tastiera ossia la i ioso k 600 una tastiera che ovviamente non è di marca non è una logitech una corsair una roccat e così via dicendo ma è una marca che potrebbe dirvi qualcosa come potrebbe non dirvi nulla ci sono tante tante alternative a questa marca che propongono la stessa tastiera bene o male con qualche differenza la tastiera in questione sta su amazon ad un costo di 52 euro circa più o meno con prime venduta e spedita da amazon quindi state tranquilli e ho deciso di acquistarla per il suo design originale ora io provengo da una roccat quindi una tastiera meccanica professionale sinceramente volevo una tastiera compatta originale come design accattivante e ho provato ad acquistare questa tastiera e vi posso dire che non è affatto male la pressione dei tasti come potete udire è meccanica e ha quell'effetto clic clac clic clac di molte tastiere meccaniche o lo si ama o lo si odia naturalmente ci sono tastiere meccaniche silenziose tastiere meccaniche tipo questa e tastiere meccaniche anche a membrana diciamo che questa tastiera se decidete di acquistarla è rumorosa il suono lo potete udire da voi la tastiera come potete vedere a diversi led di differente colore purtroppo non è possibile farla tutto verde tutto rosso tutto blu ma diciamo avete la possibilità premendo fn e questo tasto di cambiare scusate non becco il tasto giusto che è ins di cambiare come potete vedere sistema di illuminazione personalmente io utilizzo il sistema quello classico che tiene la tastiera tutta accesa anche perché se comincia a spegnersi accendersi di continuo quando uso la tastiera al buio diventa problematico anche se non guardo ovviamente i tasti della tastiera se provenire da una qualsiasi altra tastiera che ha diciamo i pulsanti classici e utilizzate questa inizialmente non vi trovate molto bene perché la disposizione delle dita diciamo si è abituata ad un certo tipo di tastiera e all'inizio si faticherete a utilizzarla e vi ritroverete a guardare i tasti sulla tastiera nonostante magari come me utilizzate la tastiera da tanti e tanti e tanti anni il design come potete vedere è molto originale purtroppo non presenta il poggia polsi quindi come potete vedere compatta anzi c'è addirittura su amazon una versione così che toglie il tastierino numerico quindi è ancora più compatta io ho preferito utilizzare diciamo preferisco utilizzare questa quindi ho optato per questa quella intera non al tastierino numerico quella combatta questa si non ha il poggia polsi quindi non potete appoggiare il polso a meno che non acquistate qualche poggia polsi esterno che non ha niente a che vedere con la tastiera una pecca della tastiera devo dirla tutta è il fatto che questi tasti non so se li vedete ma penso di no perché sono difficili da farvi notare questi tasti presentano i classici comandi rapidi che vengono rappresentati dalle concine tipo per abbassare il volume aumentarlo eccetera eccetera e sono praticamente invisibili perché sono marchiati disegnati non lo so ma non si accendono non hanno un piccolo led che mostra magari il funzionamento di questi tasti quindi c'è alla fine dovete faticare parecchio ecco mettendovi in controluce a vedere il funzionamento di quel tasto ora una volta che imparate a memoria che ad esempio ins fn più ins cambia tipo di illuminazione come potete vedere mette in risalto anche il lato gaming non avete sicuramente fatica poi a ricordarvi la posizione dei vari comandi però ecco questa è una pecca sinceramente io avrei reso questi pulsantini qui sotto queste iconcine luminose cioè in modo che ecco l'utente sa che qui fa la ricerca qui fa un'altra cosa insomma però parte questa pecca e la mancanza del del poggiapolsi la tastiera è veramente comoda se ovviamente vi piace l'effetto click clack come potete udire quindi è abbastanza rumorosa non è wireless quindi è collegata via usb il che da una parte bene perché almeno non si scarica da una parte no quindi questa è una cosa che spetta solo a voi decidere insomma se la preferite wireless o col cavo come potete vedere spero che si veda ma non credo si ecco in controluce vedete ha un effetto veramente molto bello molto particolare la tastiera che dona alla stessa un design accattivante e originale la cosa interessante risiede nel fatto che i tasti sono intercambiabili praticamente su amazon ho trovato un kit a 10 euro che comprende tutti i tasti quindi magari se avete problema con un tasto lo potete cambiare tranquillamente 10 euro prendete tutti i tasti e il che è veramente ottimo la tastiera un prezzo contenuto come vi ho detto 52 euro all'incirca bene o male la trovate anche a meno se optate per una marca differente e non è professionale questo no però diciamo è ottima per digitare testi e per giochi chiare diciamo ora se volete magari una tastiera professionale per il gaming non credo sia adatta però ecco è un'ottima tastiera molto leggera molto compatta economica e accattivante originale come design se volete insomma fare una bella figura sulla vostra scrivania allora diciamo questa tastiera potrebbe tornarvi utile io comunque se siete interessati all'acquisto vi ricomunico che è disponibile su amazon ciao